In primo piano la cronaca, in particolare la maxi operazione antidroga messa a segno dai carabinieri di Chieti nella giornata di ieri, sgominata una ramificata organizzazione che aveva allestito un traffico internazionale di stupefacenti. Ce ne parla la nostra Marina Moretti che ha seguito in mattinata la conferenza stampa che si è svolta a Chieti e che oggi si trova proprio in uno dei punti indicati da questa inchiesta per i traffici. Marina, dove ti trovi? Buongiorno. Sì, buongiorno Carmine, buongiorno ai nostri telespettatori. Con la telecamera di Diego Martelli siamo venuti nella zona che poi dà il nome a questa operazione che era stata chiamata proprio Operazione Alento. Verso la foce del fiume Alento, verso Francavilla, abbiamo percorso una strada, tutto sommato comodamente con la macchina, ci siamo fermati qui sulla sponda del fiume perché non vi so dire esattamente in quale albero, in quale punto, ma era comunque in questa zona che la droga veniva occultata e tra l'altro è proprio da questa zona che le indagini sono partite perché c'era una persona che veniva attenzionata, come si dice, eseguita proprio dai carabinieri perché poi le persone che sono state arrestate sono anche soggetti conosciuti e in alcuni casi pregiudicati. Insomma da lì certosinamente si è risaliti a tutta la filiera. Indagini che sono partite nel 2019 che avevano già portato a degli arresti in flagranza di reato ma si è continuato ad indagare proprio per arrivare al vertice di questa filiera appunto e quindi si è capito che si trattava non di semplici piccoli spacciatori della zona ma di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale. La droga veniva reperita in Belgio e in Olanda, in parte anche transitava dalla Germania, arrivava in Albania e poi dall'Albania arrivava sulla sponda abruzzese da cui poi invece partiva e risaliva la dorsale adriatica fino a Rimini. Insomma un giro complesso e infatti oggi il nucleo sia operativo che investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Ghieti hanno definito questa indagine un'indagine di qualità proprio perché ha permesso diciamo di risalire i tasselli di tutta questa filiera. 60 kg di droga come dicevi sequestrata fra eroina e cocaina, 19 arresti nella prima tornata poi con altre ordinanze di custodia cautelare e con anche due obblighi di dimora in tutto questo periodo. Droga che veniva messa in serbatoi allestiti all'interno dei camion, serbatoi diciamo così raddoppiati di volume per fare posto ai panetti ma anche in alcune macchine di grossa cilindrata con un cruscotto che poi nascondeva un doppio fondo. Qui siamo appunto nella zona dell'Alento ed era qui che con dei buchi nel terreno o anche con degli alberi grossi che hanno delle cavità venivano occultati questi stupefacenti. Comunque Carmine se tu sei d'accordo ti lascerei proprio vedere il servizio che ho realizzato questa mattina dopo la conferenza stampa dei carabinieri di Ghieti. Sentiamo le dichiarazioni degli investigatori. L'attività nasce negli ultimi mesi dell'anno 2019 a seguito del monitoraggio di un soggetto italiano che viene notato quindi accompagnarsi con soggetti stranieri in particolare dei soggetti albanesi e da lì che si sposta con un'autovettura di grossa cilindrata. Si verifica che sulle sponde del fiume Alento in Francavilla viene rinvenuto un primo importante sequestro di sostanze stupefacenti del tipo aeroina. Da lì nasce tutta una serie di attività coordinate, visto il titolo di reato dalla Procura della Repubblica Distrittuale dell'Aquila, che va a certificare a seguito di un'attività complessa che è durata diversi anni l'esistenza di un'organizzazione criminale formata da soggetti albanesi e italiani, in particolare soggetti locali quindi parliamo dell'area metropolitana tra Ghieti e Pescara. La caratteristica è che questa organizzazione che si avvaleva anche di soggetti autotrasportatori di merci di carattere internazionale andava ad importare questo stupefacente, parliamo di stupefacente del tipo cocaino-eroina nei paesi, in particolare Belgio-Olanda, per poi rimetterli sul mercato italiano attraverso le classiche forme di vendita sia all'ingrosso che al dettaglio. Le modalità che sono state certificate, quale quelle sia autovetture di grossa cilindrata modificate, sia come ripeto grossi auto-articolati che vengono utilizzati per la normale attività di trasporto, è un modo per sviare e sfuggire i controlli. Placido Abbandantuoni, comandante del nucleo investigativo dei Carabinieri di Chieti. Le persone che sono state arrestate in flagranza di reato prima dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare sono state 19. Queste persone sono state arrestate in flagranza nelle varie fasi delle indagini. Poi dopo il tutto è stato chiaramente relazionato alla DDA dell'Aquila, per cui il GIP, su richiesta del Pubblico Ministero, ha concesso un'ordinanza di custodia cautelare, che è quella che abbiamo eseguito ieri mattina, nei confronti di 19 persone, di cui 17 agli arresti come custodia cautelare e due obblighi di timore. Tra queste persone destinatari di ordinanza ci sono, sì, la maggior parte sono stranieri, ma anche italiani. I due obblighi di timore invece a carico di due italiani sostanzialmente. Arresti anche all'estero? Arresti all'estero sono venuti nella fase dell'attività preliminare. Per altre persone stiamo facendo ulteriori accertamenti. Quindi le indagini comunque non sono terminate? Assolutamente no. Marina, dunque indagini relative alla direzione distrittuale antimafia e quindi che ipotizzano un reato associativo, questo diciamo è l'aspetto più rilevante dell'inchiesta che consente oltre ai provvedimenti cautelari anche il fatto che si possa imbastire un processo su un reato così grave. Eh sì, infatti dicevo proprio prima, associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale, quindi sicuramente aspetti molto seri, non si parla di spaccio spicciolo, ma insomma di una vera e propria associazione finalizzata al traffico. Tra l'altro indagini, come hai sentito anche nella parte conclusiva delle interviste del servizio, indagini non concluse, tant'è che su molte cose insomma non c'è stato detto proprio tutto perché evidentemente stanno ancora indagando e quindi potrebbero esserci degli sviluppi.